Desidera? Desidera? Mi scusi lei? Bello? Un ufficio? Bello qua, mi piace, mi piace, bello, un ufficio. Cos'è che fate? Cosa facciamo? Guarda, dico, cos'è che fate? Vabbè, guardi, sarebbe difficile spiegarglielo. Cos'è che fate qua? Ce l'avete una vi? Ce l'abbiamo una vita. Una vi? Ce l'avete una vi? Una vi? Una vi? Una vision. Ce l'abbiamo una vision. Ce l'abbiamo una vision. Ce l'abbiamo una vision. Ce l'abbiamo una vision. Non lo sai. Guardate il video. Mission e vision si traducono con missione e visione, quindi le parole in italiano sono molto simili. Il significato è veramente un po' la chiave di un'organizzazione. La mission è il motivo dell'esistenza di quell'organizzazione e ciò anche che la distingue dalle altre organizzazioni, il valore che porta. Mentre invece la visione è qualcosa di più concreto perché determina gli obiettivi a medio e lungo termine che l'organizzazione si prefigge, proprio e naturalmente per essere fedele alla sua mission. Mentre è un filtro di speed certa e si cresce nel challenge. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.